ah ah Ma che? Atelesia Polo rilasciuto coso? Ditemi che è uno scherzo Molto male, i miei proiettili non li fanno niente Il suo fattore rigenerante è troppo forte E' tutto in mano Schult Distruggere il Telesia prevalica le nostre possibilità Dovremmo rassegnarci e piangere caduti Mai Melia Gli uomini che hai perso ti stavano molto a cuore, lo so E conosco fin troppo bene i desideri di vendetta E il tragico dolore della morte dei propri cari Non posso starmene qui E lasciare che un'altra persona soffra ciò che ho sofferto io Sconfiggeremo questo mostro Io lo bloccherò con la monade Voi altri, colpitelo con tutto quello che avete Grazie Pronto 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 Pronto